Benissimo di un sol cuore Ave, ave, ave Ave, ave, ave Ave, 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 ave O Madre, l'amor, ascoltaci veni, siamo tutti un sol cuore. Ave, 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 Ave Maria. L'amore con l'isola, giù e glò del sud, quel dolce sorriso con fortà un idù. L'amore con l'isola, giù e glò del sud, quel dolce sorriso con fortà un idù. L'amore con l'isola, giù e glò del sud, quel dolce sorriso con fortà un idù. L'amore con l'isola, giù e glò del sud, quel dolce sorriso con fortà un idù. L'amore con l'isola, giù e glò del sud. L'amore con l'isola, giù e glò del sud, quel dolce sorriso con fortà un idù. Carissimi fratelli e sorelle, In comunione con il Santo Padre Francesco, sull'esempio della primitiva comunità cristiana, riunita in preghiera perseverante e concorde con Maria e gli Apostoli, in questo momento di grande prova per tutto il mondo, eleviamo al Signore per intercessione della Beata Vergine Maria l'incessante supplica per la fine della pandemia. In particolare oggi, da questo santuario della Beata Maria Vergine del Santo Rosario di Pompei, desideriamo pregare per la Chiesa, perché sappia discernere la volontà di Dio in questa crisi e continui a dare il suo contributo per il bene dell'umanità. Fondata sulla parola di Dio, testimone di una fede operosa nella carità, con lo sguardo rivolto alle cose del cielo e certa della potenza della risurrezione del Signore, la Chiesa desidera farsi carico di tutta la sofferenza dell'umanità ed esortare tutti alla speranza che splende in Cristo. Le lampade ardenti, che porteremo ad ogni mistero del Rosario, siano il segno più vero di questa speranza in Cristo, luce nuova che illumina le genti. Questa sera pregheremo il Rosario seguendo le indicazioni di San Giovanni Paolo II nella lettera apostolica Rosarium Virginis Marie. Aggiungeremo al nome di Gesù l'evocazione di ciascun mistero e il Rosario ci si presenterà come un compendio del Vangelo. Invitiamo quanti ci seguono dai nostri canali web a unirsi spiritualmente con le proprie famiglie. Nel primo mistero della gloria contempliamo Gesù che risorge dal sepolcro e preghiamo per tutte le chiese particolari, specie quelle sofferenti. Dal Vangelo secondo Marco Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria Madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levar del sole. Dicevano tra loro «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?» Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrata in il sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso! È risorto, non è qui!» «Non abbiate paura!» con te vediamo, con te avremo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ma faccio oggi il nostro pane un po' di piano, e rimette a noi i nostri piedi, come anche noi dimettiamo ai nostri servitori, e non abbandonarci alla defrazione, ma liberarci alla male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora del nostro santo, signoriamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora del nostro santo, signoriamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora del nostro santo, signoriamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora del nostro santo, signoriamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora del nostro santo, signoriamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora del nostro santo, signoriamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora del nostro santo, signoriamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora del nostro santo, signoriamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora del nostro santo, signoriamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, come era nel principio, ora e sempre nei secoli, nei secoli. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di credere fortemente alla risurrezione di Cristo e di risorgere ogni giorno con Lui a vita nuova. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Nel secondo mistero contempliamo Gesù che ascende al cielo e preghiamo per tutti i consacrati e le consacrate nella vita dei consigli evangelici. Dal Vangelo secondo Luca Poi Gesù li condusse fuori, verso Betania, e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a Lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Mostraci il tuo volto, Signore, in te speriamo. Donaci il tuo sguardo, Maria, con te crediamo, con te amiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Nascendo oggi il nostro pane, continuiamo, e rimetti a noi i nostri eri, come anche noi rimettiamo ai nostri direttori, e non avvalorarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amo. Salve Maria, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus, who ascended to heaven for us, who ascended to heaven for us. Salve Maria, Madre di Dio, rega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Salve Maria, full of grace, the Lord is with you. Salve Maria, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus, who ascended to heaven for us. Salve Maria, Madre di Dio, rega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus, who ascended to heaven for us. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e datori, adesso e in l'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus, who ascended to heaven for us. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e datori, adesso e in l'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus, who ascended to heaven for us. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e datori, adesso e in l'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus, who ascended to heaven for us. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e datori, adesso e in l'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus, who ascended to heaven for us. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e datori, adesso e in l'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus, who ascended to heaven for us. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e datori, adesso e in l'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus, who ascended to heaven for us. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e datori, adesso e in l'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus, who ascended to heaven for us. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e datori, adesso e in l'ora della nostra morte. Amen. Glória al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, nei secoli. Amo Amo Ave Maria Ave Maria Ave Maria Nel Terzo Mistero contempliamo Gesù che invia lo Spirito Santo e preghiamo per tutti i movimenti e le associazioni ecclesiali. Dagli Atti degli Apostoli Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Mostrace il tuo volto Signore Padre nostro Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Padre oggi il nostro Padre lo chiediamo, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal mare. Amo. Padre nostro Padre nostro Grazie per noi, peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Io ti saluto, Maria, piena di grado, il Signore è con voi. Voi siete benissi in tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro entrare, è benissimo. Lui che ha envoyato l'Esprit-Saint su noi. Grazie a Maria, Mane di Dio, prego per noi, peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Io ti saluto, Maria, piena di grado, il Signore è con voi. Grazie a Maria, Mane di Dio, prego per noi, peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Io ti saluto, Maria, piena di grado, il Signore è con voi. Grazie a Maria, Mane di Dio, prego per noi, peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Grazie a Maria, Mane di Dio, prego per noi, peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Io ti saluto, Maria, piena di grado, il Signore è con voi. Voi siete benissi in tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro entrare, è benissimo. Lui che ha envoyato l'Esprit-Saint su noi. Grazie a Maria, Mane di Dio, prego per noi, peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Io ti saluto, Maria, piena di grado, il Signore è con voi. Voi siete benissi in tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro entrare, è benissimo. Lui che ha envoyato l'Esprit-Saint su noi. La Santa Maria, Mane di Dio, prego per noi, peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Io ti saluto, Maria, piena di grado, il Signore è con voi. Voi siete benissi in tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro entrare, è benissimo. Lui che ha envoyato l'Esprit-Saint su noi. La Santa Maria, Mane di Dio, prego per noi, peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. La Santa Maria, Mane di Dio, prego per noi, peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. La Santa Maria, Mane di Dio, prego per noi, peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre dei secoli, dei secoli. Reggina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere sempre docidi all'azione dello Spirito Santo, perché Egli compia in noi, nella Chiesa e nel mondo, i prodigi di una rinnovata Pentecoste. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Nel quarto mistero, contempliamo Maria assunta in cielo e preghiamo per tutte le parrocchie. Dal Cantico dei Cantici. Ora l'amato mio prende a dirmi, alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto. Perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato, e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti, e le viti in fiore espandono profumo. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto. Mostraci il tuo volto, Signore, in te speriamo. Glorie al tuo sguardo, Maria, con te crediamo, con te amiamo. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Lasci oggi il nostro pane quotidiano, e metti a noi i nostri debiti, come anche noi li mettiamo ai nostri debitori, e non abbandonati a la tentazione, ma liberati già da mare. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski spełna, Pan z Tobą, błogosławiona, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który z duszą i ciałem wziął Cię do nieba. Santa Maria, Madre Lugia, preka per voi, pietatori, adressa e bellora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski spełna, Pan z Tobą, błogosławiona, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który z duszą i ciałem wziął Cię do nieba. Santa Maria, Madre Lugia, preka per voi, pietatori, adressa e bellora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski spełna, Pan z Tobą, błogosławiona, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który z duszą i ciałem wziął Cię do nieba. Santa Maria, Madre Lugia, preka per voi, pietatori, adressa e bellora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski spełna, Pan z Tobą, błogosławiona, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który z duszą i ciałem wziął Cię do nieba. Santa Maria, Madre Lugia, preka per voi, pietatori, adressa e bellora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski spełna, Pan z Tobą, błogosławiona, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który z duszą i ciałem wziął Cię do nieba. Santa Maria, Madre Lugia, preka per voi, pietatori, adressa e bellora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski spełna, Pan z Tobą, błogosławiona, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który z duszą i ciałem wziął Cię do nieba. Santa Maria, Madre Lugia, preka per voi, pietatori, adressa e bellora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski spełna, Pan z Tobą, błogosławiona, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który z duszą i ciałem wziął Cię do nieba. Santa Maria, Madre Lugia, preka per voi, pietatori, adressa e bellora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski spełna, Pan z Tobą, błogosławiona, Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który z duszą i ciałem wziął Cię do nieba. Santa Maria, Madre Lugia, preka per voi, pietatori, adressa e bellora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski spełna, Pan z Tobą, błogosławiona, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który z duszą i ciałem wziął Cię do nieba. Santa Maria, Madre Lugia, preka per voi, pietatori, adressa e bellora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski spełna, Pan z Tobą, błogosławiona, Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który z duszą i ciałem wziął Cię do nieba. Santa Maria, Madre Lugia, preka per voi, pietatori, adressa e bellora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Maryjo, preka per voi, pietatori, adressa i ciałem wziął Cię do nieba. Zdrowaś, Maryjo, preka per voi, pietatori, adressa i ciałem wziął Cię do nieba. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre Nostra Dolcissima, O tienici che, contemplando il Tuo volto più bello del sole, ci sentiamo rapiti dalla bellezza di Dio e ci impegniamo a costruire il mondo secondo il Tuo cuore. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Madre Maria, Madre Maria, Madre Maria, Madre Maria. Nel quinto mistero, contempliamo Maria incoronata regina e preghiamo per tutti i laici cristiani che nel mondo sono chiamati a servire il Vangelo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse, l'anima mia magnifica è il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Mostraci il tuo molto Signore, in te speriamo. Donaci il tuo sguardo, Maria, con te crediamo, con te amiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Venga il nostro canale quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci a la tentazione, ma liberarci dal male. Dio te salve, Maria, llena eres di grazie, il Signore è contigo. Dio te salve, Maria, llena eres di grazie, il Signore è contigo. Dio te salve, Maria, llena eres di grazie, il Signore è contigo. Dio te salve, Maria, llena eres di grazie, il Signore è contigo. Dio te salve, Maria, llena eres di grazie, il Signore è contigo. Dio te salve, Maria, llena eres di grazie, il Signore è contigo. Dio te salve, Maria, llena eres di grazie, il Signore è contigo. bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús que te coronó reina del cielo y de la tierra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús que te coronó reina del cielo y de la tierra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús que te coronó reina del cielo y de la tierra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús que te coronó reina del cielo y de la tierra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tu bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús que te coronó reina del cielo y de la tierra bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús que te coronó reina del cielo y de la tierra Santa María llena eres de gracia del cielo y bendita es el fruto de la tierra gloria al Padre al Filio e allo Spirito Santo Com'era nel principio, ora è sempre nei secoli, nei secoli. Amore. Preghiamo ora secondo le intenzioni del Santo Padre Francesco. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Faccio oggi il nostro pane quotidiano, e metti a noi i nostri debiti, come anche noi li mettiamo ai nostri seguitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, è anche noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna d'Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudente, Vergine Degna di Lode, Vergine Degna di Onore, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di Perfezione, Sede della Sapienza, Fonte della Nostra Gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Dimora Consacrata di Dio, Rosa Mistica, Torre della Santa Città di Davide, Fortezza Inespugnabile, Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e Ti rivolgiamo le nostre suppliche. O Vergine Maria, volgi a noi i Tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, talora sepolti in un modo che ferisce l'anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate, alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia a chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull'economia e sul lavoro. Madre della Chiesa, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova finisca presto e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il Tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le famiglie delle vittime e degli infermi e di aprire i loro cuori alla speranza. Proteggi i medici, il personale sanitario, i volontari e tutti coloro che in questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. Sì accanto ai sacerdoti che con sollecitudine pastorale e impegno evangelico cercano di aiutare e sostenere tutti. Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino giuste soluzioni per sconfiggere il virus. Assisti i responsabili delle nazioni perché operino con saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche, con lungimiranza e con spirito di solidarietà. Madre Santissima, risveglia le coscienze, perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. Madre Amatissima, fa crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un'unica grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché, con spirito fraterno, veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza della fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. O Maria, Consolatrice degli afflitti, ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come aurora di salvezza e Madre di speranza. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Grazie a Dio. 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 I quanti in ansia pregano a vincere il cuore a te. I quanti in ansia pregano a vincere il cuore a te. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!